buongiorno amici e amici bentornati a suona la sveglia inizia il make up oggi una fascetta skin care super carina e pucciosissima è un'amica di hello kitty o un amico non lo so non mi ricordo assolutamente il nome mi scuserete mi sono sentita un alieno quando inizio io io mi sono sentita un alieno la prima volta che sono andata in giro un po truccata e lo so che vi stupirò con questa diciamo rivelazione sì perché sono andata in giro truccata molto diciamo per lo standard dell'epoca per l'età che avevo avevo zaccato tantissimo la mano calcato la mano col make up avevo tipo una matita color marrone sfumata all'interno un rossetto rosa che andava a colorare il mio diciamo esagerato make up labbra per l'epoca e una bella mattita nera messa tipo panda per nulla sfumata tutto attorno all'occhio questa è stata la prima volta in cui mi sono andata in giro truccata ero piccolina anzi piccolissima e mi sono sentita un alieno fatemi sapere voi maggini pini brufolini e gli occhiaie da bandina noi anche oggi cantiamo per sentirci un po meno alieni ma soprattutto per iniziare con un po di allegria la giornata di oggi applichiamo il correttore di maybelline new york devo dire che alcuni di voi e alcuni di voi mi hanno detto che non si sono trovati proprio benissimo con questo correttore invece io mi sono trovata e mi sto trovando molto molto bene super facile da sfumare col pennello del fondotinta ora fissiamo il tutto con la cipria beckin powder coconut di revolution delicatamente profumate queste cipre di revolution noi abbiamo già provato cocco pesca e banana buonissime mi piacciono tantissimo il blushino di oggi è la colorazione super chiara ballerina di revolution e devo dire che l'effetto è molto molto carino questa meraviglia invece è l'illuminante dish glam della linea degli alieni super in tema con il nostro pensiero di oggi guardate che effetto sparkle ma non troppo sugli zigomi molto molto carino il lip balm di oggi è di bio apta l'abbiamo trovato in omaggio in un giornale è super idratante e mi piace tantissimo in combo con un pizzico di volume boost di bella oggi devo dire che non può più mancare volume boost di bella oggi ma strega comanda color palette coming come up di she glam è la palette degli alieni molto versatile questa palette palette perché all'interno ha una scheda colori super interessante ci sono dei verdi ci sono degli azzurri c'è anche un po di marrone però devo dire che i colori super chiari come questo bellissimo verde acqua sono veramente incredibilmente luminosi super facili da applicare si stendono che una meraviglia e durano tutto tutto il giorno anche senza primer vedete che stiamo provando gli ombretti anche senza primer intensifichiamo nell'angolo interno dell'occhio per creare il punto luce sempre con la stessa colorazione e oggi applichiamo il mascara di essence i need a miracle devo dire che certe mattine sento proprio il bisogno di un piccolo miracolo e questo mascara fa proprio il caso mio alla necessità di un piccolo miracolo fatemi sapere se questo makeup luminoso ma super veloce di oggi vi piace io sono convinta che a tanti di voi piacerà il gloss che utilizziamo oggi è il numero 51 3d hydra lip gloss di kiko è la colorazione celestina che sta piacendo a tantissimi e devo dire che a me non mi dispiace nel mio caso lo trovo super luminoso e adatto anche diciamo all'incarnati come i miei fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se vi piacerà galassia è la parola segreta di oggi e tutte le emoji riguardanti le galassie le stelle stupitemi nei commenti con tante emoji carine e adatte al video di oggi io come sempre mi sono divertita a giocare insieme a voi per creare questo soft makeup vi mando un bacio grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti ciao amici amici buona giornata fate le brave e i bravi a dopo